Rock a Tango Qualcuno sa dirmi perché le scatolette per i cani hanno un odore così nauseabondo. Rita dalla Chiesa, parlamentare di Forza Italia, su X. Ieri non ero presente perché sono andata al cinema a vedere Krypton. La segretaria del PD, Ellie Schlein, giustifica così la sua assenza al seminario organizzato da lei a Gubbio. Se il PD vuole essere una via di mezzo fra lotta continua e lo zecchino d'oro, va bene così. Vincenzo De Luca, presidente PD della regione Campania. Dopo la caccia all'apologia del fascismo c'è quella all'apologia del bandecchismo. Solo che io non ce l'ho un ventennio. Ah, un'ultima cosa. Se proprio qualcuno mi vuole mandare in esilio, all'Elba, come Napoleone. Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, di Alternativa Popolare. Se mio figlio fosse gay, lo supporterei. Ma nel limite del possibile cercherei di orientarlo verso l'eterosessualità. Estratto di un'intervista al generale Roberto Vannacci. Sono in contatto con Silvio Berlusconi dall'aldilà. Io ogni tanto ci parlo. E sta benissimo. L'illusionista Giucas Casella ha al quotidiano La Repubblica.